Gentili telespettatori, buona giornata. Le ultimissime notizie sulle elezioni politiche del 2022-25 settembre. Letta le liste pronte entro ferragosto, Meloni abbia una faccia sola. Dice dovremmo definire le liste comuni, vogliamo farlo entro ferragosto per essere operativi sul territorio per la campagna elettorale. La campagna elettorale cosa la fa l'ultima settimana giusto per togliersi questo problema di andare a fare comizi nelle piazze deserte? Però lui dice così dovremmo finire le liste, vogliamo farlo entro ferragosto. Così il segretario del PD Enrico Letta nel corso della conferenza stampa nella sede romana di più Europa e dice Meloni abbia una faccia sola, non può dire una cosa agli elettori in Italia cercando di riposizionarsi ed esprimere un'altra idea quando va a parlare in Spagna agli elettori di Vox o in altri paesi. Qualche mese fa era allineata su tutto con il presidente ungherese Orban. Mentre la Bonino dice mai visto un voltafaccia così truffaldino come quello di Calenda, uno strappo totalmente immotivato. Ha definito la rottura tra azione e il PD, mai visto nulla di simile in tutta la mia carriera politica. Mai visto nulla di simile. Calenda era stato chiaro, aveva detto al PD se fate entrare in questa sorta di alleanza chi è contro il programma Draghi, quando questa alleanza è in nome del programma Draghi io me ne vado. Non mi sembra che abbia detto o fatto qualcosa di assurdo, ha semplicemente detto che così è una cozzaglia la coalizione della sinistra perché non ha un programma e mette dentro persone che la pensano diversamente. Adesso lo descrivono come una specie di mostro immotivato che non ha mai visto nulla di simile. Forse non avete mai visto una persona che cerca di comportarsi in maniera normale. Ecco, forse è questo. Malaborino dice noi andiamo avanti, è certo. Andate avanti con il PD che vi porta delle poltrone e degli stipendi per le prossimi cinque anni. Cottarelli accetto di candidarmi con PD e più Europa. Una scelta di campo per me è un passo importante. Prossime elezioni saranno cruciali per il futuro del paese e per la vita politica dei prossimi anni. Il commento di Letta, una punta di diamante per la nostra campagna elettorale. Mi piace essere in sintonia con persone competenti in grado di guardare al bene dell'Italia. Sarà una campagna elettorale bellissima, dice. E poi andiamo a vedere che la sinistra, italiani e verdi candidano Ilaria Cucchi e poi Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano e poi andiamo a vedere che altre notizie che non siano le stesse. La premiership del centrodestra perché Giorgia Meloni ha fatto bene a porre subito la questione sulla premiership agli alleati che avrà un voto in più. Sarà premier. Questa è la regola accettata ieri dal leader della Lega Matteo Salvini e oggi dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Movimento 5 Stelle da Fico a Di Maio la classe dirigente affondata da Grillo. La regola sul tetto del secondo mandato ha azzerato il gruppo storico tra gli esclusi ex ministri come Bonafede in arte di J. Fofò e Toninelli, quello che diceva di essere stato il miglior ministro della storia della Repubblica. E poi la raggi, il vento del cambiamento a Roma che abbiamo visto e l'incantevole crimi. Credo che non sentiremo proprio la loro mancanza, almeno io no, non so voi. Erano in 339, erano giovani e forti e si sono politicamente eliminati. Questo è quello che è successo nel Movimento 5 Stelle che doveva essere un partito che doveva sciogliersi raggiunti gli obiettivi come diceva Grillo. Meloni, governo politico ma se serve non escludo tecnici in un governo di centrodestra. Così pur ribadendo alla Meloni l'importanza del voto popolare e la necessità di un governo politico apre alla presenza di tecnici in un eventuale esecutivo di centrodestra. Il nostro governo sarà ovviamente politico e porrà fine alla lunga stagione dei tecnici e dei premier che nessun italiano aveva mai votato. Questo non ci impedirà di avvalerci se necessario di competenze che non vengono dalla politica di partito. Ne parleremo a tempo debito con gli alleati ma naturalmente ho già in mente diversi nomi di personalità che potrebbero darci una mano ad attuare le nostre linee politiche. Vediamo che altre notizie. Meloni e la sfida agli alleati. Se Fratelli d'Italia avrà un voto in più io sarò premier, diceva proprio ieri. E poi Salvini, nucleare e ponte sullo stretto nel programma di centrodestra. Racconta su Radio Libertà di essere poi al lavoro su due temi che ritiene centrali. In primis dice bisogna aggiungere alle fonti energetiche rinnovabili, nucleare, poi bisogna dare via libera alle troppe infrastrutture bloccate da tempo. Un esempio su tutti quello del ponte sullo stretto di Messina. E poi vediamo Calendarenzi, braccio di ferro sulle candidature del terzo polo, l'idea del ticket Carfagna. Bonetti, quindi vorrebbero mettere come finto candidato premier la Carfagna per attirare i voti di Forza Italia e per poi unirsi al PD e ai 5 Stelle dopo le elezioni. Conte, di Battista, abbiamo posizioni diverse. Il PD chiude a noi ma lavora con chi era contro Draghi. Conte che annuncia a differenza di Meloni non prendo ordini da Washington, non volevo minare la stabilità del governo Draghi, ora andremo da soli. Non voleva minare la stabilità del governo Draghi, l'ho fatto cadere. Va bene, poi abbiamo i sondaggi, i dati di SVG e Cattaneo. Centrodestra ha un vantaggio più largo, all'uninominale 185 collegi a 32. Fratelli d'Italia primo partito, il PD subito a ridosso. La coalizione di centrodestra nettamente avanti, solo il 58% degli italiani e sicuro di andare alle urne. Io andrò sicuramente a votare, non mi perdo questa elezione per niente al mondo. E intanto andiamo a vedere Calenda, accordo con Italia Viva su questioni di fondo, lavoriamo a una lista unica e incontrerò Renzi. E Berlusconi, penso di candidarmi al Senato, Meloni adeguata per fare il Premier. Così anche Berlusconi finalmente cambia idea su Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Dice mi candiderò al Senato e Meloni è assolutamente idonea per fare il Premier nel futuro governo. Stessa cosa aveva detto il leader della Lega Matteo Salvini. Poi Berlusconi dice la Flactax farà crescere il Paese, che non ci sia un pericolo delle destre, che la coalizione garantirà l'atlantismo e l'europeismo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci. A presto. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete. Grazie a tutti e arrivederci.